Assessore, nuove aree per i più piccoli, nuove aree picnic, insomma è in corso e procede un abbellimento generale della città anche in tal senso? Sì, è un percorso già iniziato l'anno scorso, fortemente voluto dal sindaco, devo dire, che va nella direzione giusta, di creare nuove aree di parchi giochi e poi ci siamo resi conto che inserendo in queste aree dei tavoli picnic si favoriva quel processo di socializzazione molto utile e quindi andiamo in questa direzione, adesso saranno installati nuovissimi parchi gioco, ho integrato i nuovi parchi giochi, integrazione di alcuni giochi su già quelli esistenti, sostituzione di alcuni parchi gioco e ovviamente abbiamo anche, stiamo andando in direzione di arricchire queste aree con tavoli picnic, ma non solo quelle aree, anche nelle scuole porteremo tavoli picnic, quindi nuove panchine, ovviamente è un percorso, adesso già sono arrivate, abbiamo a disposizione nei nostri magazzini questo materiale, però ecco poi l'installazione richiare dei tempi sicuramente non brevi, però ecco andiamo in questa direzione, ci siamo di abbellire la nostra città, abbellire le nostre frazioni, ovviamente le problematiche sono tante, ma anche sotto questo aspetto dobbiamo dare una risposta e lo stiamo facendo. Nuove aree dove nello specifico? Sostituzione, integrazione dei parchi giochi della Gammarana, di Piano Solare, di Villa Turri, di San Nicolò, di San Nicolò, di San Nicolò, di San Nicolò.